Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 101 del 2013, lotto unico. Stalla e di magazzino in corpo di fabbrica separato, con corte esclusiva di pertinenza. Terreno agricolo della superficie catastale di 55.142 metri quadri. Sito in località Pellateria, via Pellateria senza numero civico, Roveredo di Gua. Prezzo base, 284.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 105 del 2015, lotto uno. Locali ad uso negozio, magazzino ed accessori al piano terra con pertinente corte esclusiva. Sito in via dell'artigianato 21-23, Cerea. Prezzo base, 436.800 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. Primo dicembre 2016 alle ore 13 e 30. Luogo della vendita, presso la sala Aste in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandra Vianello, telefax, 045, 252, 51, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 105 del 2015, lotto due. Laboratorio con ufficio al piano terra e primo con pertinente corte esclusiva. Sito in via dell'artigianato 25, Cerea. Prezzo base, 164.800 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. Primo dicembre 2016 alle ore 13 e 30. Luogo della vendita, presso la sala Aste in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandra Vianello, telefax, 045, 252, 51, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 105 del 2015, lotto tre. Laboratorio con ufficio al piano terra e primo con pertinente corte esclusiva. Sito in via dell'artigianato 27, Cerea. Prezzo base, 133.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. Primo dicembre 2016 alle ore 13 e 30. Luogo della vendita, presso la sala Aste in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandra Vianello, telefax, 045, 252, 51, 10. Tribunale di Verona, causa civile 10.795 del 2007, lotto tre. Immobile ad uso abitazione posto su due piani fuori terra, terra e primo con terreno circostante, e piccolo terreno in corpo staccato. Sito in frazione Begosso, via dei caduti tre, terrazzo. Prezzo base, 13.000 euro. Quota, nuda proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso lo studio del notaio dottoressa Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 108 del 2013, lotto unico. Unità ad uso abitativo di due piani fuori terra ubicata in porzione terra, cielo di fabbricato in linea autorimessa e vani accessori ubicati al piano terra in distinto corpo di fabbrica e di altra autorimessa e vani accessori ubicati al piano terra e sottotetto in distinto corpo di fabbrica, oltre ad aree cortive esclusive. Sito Infrazione Sustinenza, via Bassa 6, Casa Leone. Prezzo base, 21.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, telefono 04 58 03 10 82 fax 04 58 04 39 76. Tribunale di Verona, causa civile 11.205 del 2011, lotto 2. Cabina elettrica al piano terra. Sito Infrazione Venera, via Venera, Casa Leone. Prezzo base, 1.350 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso studio notaio Buoninconti in Verona, VR, Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono 045 862 13 44, fax 045 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 115 del 2009, lotto unico. Abitazione su due livelli, piano terra e primo, con accesso diretto dalla pubblica via e piccolo fabbricato accessorio adibito a cantina e garage, accessibile dalla porzione di corte retrostante la casa principale, MM numeri 441 e 604, come indicato in perizia. Sito in piazza Marconi 15, Veronella. Prezzo base, 82.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la sala Aste in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Federica Micheli, telefono 04 58 03 56 55, fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 129 del 2015, lotto unico. Autorimessa al piano interrato. Sito in località Palazzolo, via Ghiaia, Sona. Prezzo base, 9.900 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alberto Orrico, telefono 045 800 64 33, fax 045 800 97 77. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 129 del 2015, lotto unico. Autorimessa al piano interrato. Sito in località Palazzolo, via Ghiaia, Sona. Prezzo base, 20.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alberto Orrico, telefono 045 800 64 33, fax 045 800 97 77. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 129 del 2015, lotto 3. Autorimessa al piano interrato. Sito in località Palazzolo, via Ghiaia, Sona. Prezzo base, 11.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alberto Orrico, telefono 045 800 64 33, fax 045 800 97 77. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 129 del 2015, lotto 4. Autorimessa al piano interrato. Sito in località Palazzolo, via Ghiaia, Sona. Prezzo base, 11.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alberto Orrico, telefono 045 800 64 33, fax 045 800 97 77. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 129 del 2015, lotto 5. Appartamento monolocale con bagno al piano terra e piccola corte esclusiva. Sito in località Palazzolo, via 4 novembre, Sona. Prezzo base, 48.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alberto Orrico, telefono 045 800 64 33, fax 045 800 97 77. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 129 del 2015, lotto 6. Autorimessa al piano interrato. Sito in località Palazzolo, via Ghiaia, Sona. Prezzo base, 19.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alberto Orrico, telefono 045 800 64 33, fax 045 800 97 77. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 129 del 2015, lotto 7. Ufficio al piano sottostrada, non autonomo e unito di fatto ad altra unità non oggetto di vendita, con soprastante cortile al piano terra. Sito in località Palazzolo, via Prele, Sona. Prezzo base, 4.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alberto Orrico, telefono 045 800 64 33, fax 045 800 97 77. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 12 del 2015, lotto unico. Appartamento al piano terzo con cantina. Garage al piano scantinato. Sito in via Giovanni XXIII 6, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 54.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono 045 862 13 44, fax 045 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 139 del 2015, lotto unico. Capannone ad uso artigianale. Sito in via dell'artigianato XII, al Baredo d'Adige. Prezzo base, 68.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Architetto Francesco Bettagno, telefono 04 59 27 31 45, fax 04 58 01 15 11. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 177 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano primo. Quota di un terzo, un terzo, di piena proprietà di autorimessa al piano terra. Sito in frazione Capitello, via San Giovanni 35, con Camarise. Prezzo base, 31.000 euro. Quota, piena proprietà. Quota di un terzo di piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Guido Trabucchi, telefono 045 91 60 55, fax 045 834 53 54. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 193 del 2015, lotto unico. Abitazione dislocata sui piani terra, primo e secondo con pertinente corte esclusiva al piano terra. Sito in via Gambaretti 9 barra A, San Giovanni Ilarione. Prezzo base, 40.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 1 dicembre 2016 alle ore 13 e 30. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Anna Bimbatti, telefono 045 59 68 88, fax 045 59 62 36. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 198 del 2013, lotto 6. Appartamento al piano terzo, composto da ingresso, ripostiglio, soggiorno, cucina, bagno e camera. Sito in via Filippo Rosa Morando 32, Verona. Prezzo base, 48.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Andrea Parolini, telefono 04 58 01 43 84, fax 04 58 03 21 28. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 198 del 2013, lotto 7. Garage al piano primo interrato. Sito in via Le Venezia 83, Verona. Prezzo base, 6.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Andrea Parolini, telefono 04 58 01 43 84, fax 04 58 03 21 28. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 198 del 2013, lotto 8. Cantina al piano terra, accattastata come garage. Sito in via Le Andrea Palladio, Verona. Prezzo base, 5.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Andrea Parolini, telefono 04 58 01 43 84, fax 04 58 03 21 28. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 216 del 2015, lotto 1. Autorimessa posta al piano interrato di edificio condominiale. Ufficio posto al piano secondo di edificio condominiale. Sito in piazza Umberto IA, San Giovanni Lupatoto via Madonnina 8, San Giovanni Lupatoto. Prezzo base, 109.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Guido Cinalli, tel 045 8 032 745, fax 045 805 00 07. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 223 del 2014, lotto unico. Abitazione disposta ai piani terra e primo, con onnesso ripostiglio in corpo staccato, ivi compresa l'area di insistenza e pertinenza dei fabbricati. Pertinenziale autorimessa. Sito in frazione Engazza, via Caovilla 70, Salizzole frazione Engazza, via Caovilla frazione Engazza, via Caovilla 70, Salizzole. Prezzo base, 35.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045 862 13 44, fax 045 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 231 del 2001, lotto 1. Compendio immobiliare costituito da casa di civile abitazione su due piani fuori terra, composta al piano terra da ingresso, soggiorno, pranzo con retrocucina, due locali servizi, taverna e ripostiglio, al primo piano da quattro camere da letto, poggiolo e bagno, laboratorio adibito ad officina, magazzino, corte comune e terreno contiguo pertinenziali. Sito in via Isolella 32, Cerea. Prezzo base, 181 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, posta in via Circonvallazione Maroncelli numero 11 B. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Notaio Rosalia Russo, telefono 04 58 96 14 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 238 del 2015, lotto unico. Appartamento al piano secondo con cantina. Garage. Sito in via Paride da Cerea 10, Verona. Prezzo base, 65 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono 045 862 13 44, fax 045 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 247 del 2012, lotto a. Area di pertinenza in unico fabbricato di tipo produttivo adibito a falegnameria, piena proprietà di due magazzini quota di 1 12 di proprietà di laboratorio artigianale. Sito in via Levignola 10, Oppeano. Prezzo base, 79 mila euro. Quota, piena proprietà, quota di 1 12 di proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Caltroni, telefono 045 800 04 33, fax 045 59 08 14. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 24 del 2013, lotto 1. Opificio al piano terra, composto da deposito attrezzi, tettoia e vasche deposito con pertinenziale corte esclusiva. Sito in via Campagnola, salizzole. Prezzo base, 136 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Maurizio Ascione Ciccarelli, telefono 04 58 03 10 82 fax 04 58 04 39 76. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 251 del 1999, lotto 1. Appartamento con sviluppo su due piani composto al piano terra da, bagno, sala, taverna, cucinino, cucina con dispensa, due ripostigli, cantina, ufficio, e al primo piano da quattro camere, soggiorno, due bagni, disbrigo, cucina, lavanderia e deposito materiali. Sito in località Pigno, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 190 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, posta in via Circonvallazione Maroncelli numero 11 B. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Augusto De Beni, telefono 045 800 94 50 fax 045 801 12 42. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 251 del 1999, lotto 2. Terreno di locale uso deposito finestrato, con area di pertinenza esclusiva. Sito in località Pigno, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 14 mila 700 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, posta in via Circonvallazione Maroncelli numero 11 B. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Augusto De Beni, telefono 045 800 94 50 fax 045 801 12 42. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 251 del 1999, lotto 3. Appezzamento di terreno e soprastanti manufatti metallici con accesso dalla corte Pigno, attraverso il deposito descritto all'otto 2, oltre a piccolo terreno posto in adiacenza al deposito di cui è lotto 2. Sito in contrada Pigno, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 20 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 21 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, posta in via Circonvallazione Maroncelli numero 11 B. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Augusto De Beni, telefono 045 800 94 50 fax 045 801 12 42. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 25 del 2014, lotto unico. Appartamento. Sito in salita Santa Lucia 14, Verona. Prezzo base, 34 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste, in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Caterina Tuppini, telefono 045 59 75 23 fax 04 58 03 60 04. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 263 del 2014, lotto unico. Fabbricato ad uso abitativo, di tipo a schiere e di vecchio impianto, disposto su due piani fuori terra e dotato di corte di pertinenza esclusiva. Sito in via Giovanni Battista 124, Bovolone. Prezzo base, 21 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Matteo Gervasini, telefono 045 99 53 48 fax 04 52 10 92 55. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 281 del 2015, lotto unico. In comune di Legnago, VR, località Vangadizza, con accesso da via Leoni da Bissolati e via Ilunga Scantinato Bach in prossimità del Civico 4, piena proprietà di terreni, risultanti dalla documentazione in atti con destinazione agricola. Sito in Legnago, Legnago. Prezzo base, 1.220.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Marzia Vinco da Sesso, telefono 045 59 72 82 fax 045 801 07 55. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 289 del 2014, lotto 1. Unità immobiliare ad uso ufficio disposta su tre piani fuori terra, oltre a locali accessori al piano interrato. Sito in via Garibaldi 21, Povegliano Veronese. Prezzo base, 302.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandro Biasioli, telefono 045 59 78 17 fax 045 804 04 66. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 289 del 2014, lotto 3A. Appartamento al piano terra con locali accessori al piano interrato e giardino di pertinenza esclusiva. Posto autocollocato sotto una tettoia in legno e aventi accesso dalla corte comune. Sito in via Garibaldi 21 barra G, Povegliano Veronese. Prezzo base, 105.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandro Biasioli, telefono 045 59 78 17, fax 045 804 04 66. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 289 del 2014, lotto 3B. Appartamento distribuito ai piani primo e sottotetto con accesso da vano scale privato al piano terra e con giardino di pertinenza esclusiva. Posto autocollocato sotto una tettoia in legno e aventi accesso dalla corte comune. Sito in via Garibaldi 21 barra G, Povegliano Veronese. Prezzo base, 136.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandro Biasioli, telefono 045 59 78 17, fax 045 804 04 66. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 292 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano. Garage al piano terra. Sito in via Borgo Trieste 36, Monteforte d'Alpone. Prezzo base, 54.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Laura Lorenzi, telefono 04 58 00 97 91, fax 04 58 00 97 91. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 308 del 2015, lotto unico. Fondo agricolo composto da fabbricato rurale in corso di costruzione destinato a residenza e terreno parte vigneto e parte bosco. Sito in frazione Mizzole, via Squaranto, Verona. Prezzo base, 930.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la sala Aste in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Tommaso Trevisiol, telefono 045 57 68 18, fax 045 810 63 76. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 1. Complesso immobiliare, formato da un lotto di forma trapezoidale di metri quadri 3448,00 con soprastante fabbricato residenziale, in cattivo stato di conservazione, parzialmente realizzato, articolato in 11 corpi contigui, costituito secondo le previsioni progettuali da numero 26 unità abitative, di cui numero 20 su due livelli fuori terra, oltre a pertinenze dirette al piano interrato, numero 20 autorimesse, numero 20 taverne e numero 20 bagni, numero 2 al piano terra e numero 4 ai piani primo e secondo, oltre a pertinenze al piano interrato, numero 7 autorimesse, numero 4 cantine e numero 2 magazzini, di superficie commerciale complessiva pari a circa 2420,00. Sito in via Molino di Sopra, Nogara. Prezzo base, 663.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 2. Appartamento al piano terra e primo, mansardato, con cantina adibita a taverna, giardino di pertinenza esclusiva, ed accesso indipendente. Autorimessa al piano interrato. Sito in via Pasqua e Veronesi 5, Pescantina. Prezzo base, 120.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3 barra. Appartamento al piano terra con due porzioni di giardino di pertinenza esclusiva, fronte e retro dell'abitazione, con cantina al piano scantinato. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via Brennerotto barra C, Pescantina. Prezzo base, 147.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3B. Appartamento al piano terra con giardino di pertinenza esclusiva. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via Brennerotto barra E, Pescantina. Prezzo base, 135.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3 barra C. Autorimessa al piano scantinato. Ufficio al piano terra con giardino di pertinenza esclusiva. Sito in via Brennerotto barra G, Pescantina. Prezzo base, 88.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3 barra D. Appartamento al piano primo e secondo, mansardato. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via Brennerotto barra B, Pescantina. Prezzo base, 125.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3 barra E. Appartamento al piano primo e secondo. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via Brennerotto barra B, Pescantina. Prezzo base, 140.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3 barra F. Appartamento al piano primo e secondo. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via Brennerotto barra E, Pescantina. Prezzo base, 135.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3 barra G. Appartamento al piano primo e secondo. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via Brennerotto barra E, Pescantina. Prezzo base, 144.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 3 barra alle ore. Appartamento al piano primo e secondo. Autorimessa al piano scantinato. Sito in via Brennerotto barra E, Pescantina. Prezzo base, 148.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 4. Appartamento al piano primo. Sito in via Colli 16, Pescantina. Prezzo base, 84.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 5A. Unità commerciale al piano terra, attualmente destinata alla vendita di gastronomia e pizzeria, con cantina al piano interrato, magazzino su unico livello, e tre posti auto scoperti. Sito in via Bosco 18, 20, Sona. Prezzo base, 270.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 5 barra B. Unità abitativa al piano primo. Posto auto coperto al piano terra. Sito in via Bosco 16, Sona. Prezzo base, 115.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 5 barra C. Unità abitativa al piano primo. Posto auto coperto al piano terra. Sito in via Bosco 16, Sona. Prezzo base, 100.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto 6. Terreni di modesta entità costituenti per lo più porzioni stradali disposte lungo la via Tresanti di consistenza catastale complessiva pari a metri quadri 293,00. Sito in via Tresanti, Pescantina. Prezzo base, 5.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 314 del 2012, lotto unico. Villino bifamiliare e recentemente ristrutturato, composto da due appartamenti al piano terra e primo, con area scoperta comune e adibita a giardino e tettoie per ricovero auto. È compresa la quota di un ottavo di comproprietà della piscina condominiale realizzata su terra pieno completamente recintato. Sito in via Oliveto, Bardolino. Prezzo base, 415.000 euro. Quota, piena proprietà. Quota di un ottavo di comproprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 16. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Elena Sancassani, telefono 04 58 03 56 55 fax 04 58 00 93 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 325 del 2015, lotto unico. Terreno agricolo. Sito in frazione Bonferraro località Fattole, Sorga. Prezzo base, 310.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Cristian Belliardo, telefono 045 801 12 76 fax 045 804 75 43. Trib Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 32 del 2009, lotto unico. Fabbricato al grezzo costituito da due corpi adiacenti, in parte ad uso residenziale ed in parte ad uso non residenziale, depositi ed annessi rustici, che sorgono in continuità strutturale su tre livelli fuoriterra con area urbana di pertinenza. Annesso terreno agricolo, attualmente incolto soggetto a vincolo ambientale paesaggistico. Sito in località Cercomano, Isola della Scala. Prezzo base, 171.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste di Notes in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Paolo Malizia, telefono, 045 59 55 86 fax, 04 58 02 05 32. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 351 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano primo con cantina al piano terra. Sito in via Vittorio Veneto 42, Casa Leone. Prezzo base, 47.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Andrea Marchesini, telefono, 045 801 17 20 fax, 045 59 32 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 353 del 2014, lotto unico. Tre ampi spazi adibiti a posti auto al piano primo interrato. Ufficio open space con accessori. Sito in via Bozzini 2, Verona. Prezzo base, 405.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Lorenzo Dallarosa, telefono, 045 800 46 70, fax, 045 801 15 15. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 35 del 2011, lotto uno. Appartamento al piano secondo con accesso indipendente direttamente dalla Corte esclusiva, attraverso vano scala privato. Sito in contrada barco, Vestena Nova. Prezzo base, 45.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuliano Maffi, telefono, 045 803 66 67. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 35 del 2011, lotto due. Porzione di rustico disposto su tre piani fuori terra, addossato ad altro fabbricato e facente parte di una cortina di edifici affacciati su area promiscua. Sito in contrada barco, Vestena Nova. Prezzo base, 18.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuliano Maffi, telefono, 045 803 66 67. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 398 del 2014, lotto unico. Unità abitativa su due piani fuori terra, facente parte di un edificio bifamiliare con accesso indipendente. Autorimessa posta al piano terra e con annesso piccolo ripostiglio su due piani fuori terra. Sito in via Pomara 7, Bovolone. Prezzo base, 18.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, Aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045 862 13 44, fax 045 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 399 del 2013, lotto 1. Appartamento posto al piano primo. Magazzino con corte di pertinenza esclusiva posto al piano terra. Sito in via Marconi 2, San Giovanni Lupatoto. Prezzo base, 87.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, Aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Guido Trabucchi, telefono, 045 91 60 55, fax 045 834 53 54. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 450 del 2015, lotto unico. Fabbricato abitativo su tre piani fuori terra con accessori rustici, deposito con portico e deposito pollaio, e due corti esclusive. Piena proprietà della quota di un quarto, un quarto, di corte comune. Sito in via Campagna 45, Bovolone. Prezzo base, 142.000 euro. Quota, piena proprietà, piena proprietà della quota di un quarto. Vendita senza incanto. 14 dicembre 2016 alle ore 15.30. Luogo della vendita, Aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Roberto Padovani, telefono 04 58 03 10 77 fax 04 58 03 97 66. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 450 del 2015, lotto unico. Fabbricato abitativo su tre piani fuori terra con accessori rustici, deposito con portico e deposito pollaio, e due corti esclusive. Piena proprietà della quota di un quarto, un quarto, di corte comune. Sito in via Campagna 45, Bovolone. Prezzo base, 142.000 euro. Quota, piena proprietà, piena proprietà della quota di un quarto. Vendita senza incanto. 14 dicembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Roberto Padovani, telefono 04 58 03 10 77 fax 04 58 03 97 66. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 461 del 2015, lotto unico. Nuda proprietà di appartamento al piano rialzato con pertinenziale posto auto al piano scantinato in separato corpo di fabbrica. Diritto di usufrutto a favore di soggetto nato il 24 marzo 1937. Sito in via San Luca 37, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 68.000 euro. Quota, nuda proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandra Zaninotto, telefono 04 56 15 15 40 fax 04 56 17 07 48. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 468 del 2011, lotto uno. Bifamiliare concorte. Laboratorio. Sito in via Tintoretto 5, Cerea. Prezzo base, 270.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Venceslao Buffatti, telefono 045 59 28 66 876 60 00 fax 045 876 60 03. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 468 del 2011, lotto tre. Piena proprietà della quota di un terzo di due abitazioni ai piani terra e primo. Piena proprietà della quota di un terzo di due autorimesse. Sito in via San Vito 46, Cerea. Prezzo base, 17.000 euro. Quota, piena proprietà della quota di un terzo. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Venceslao Buffatti, telefono 045 59 28 66 876 60 00 fax 045 876 60 03. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 478 del 2014, lotto unico. Porzione di fabbricato ad uso residenziale. Ripostiglio e garage in corpo staccato, insistenti su corte di pertinenza. Sito in via Guglielmo Marconi 23, Erbe. Prezzo base, 28.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono 045 862 13 44, fax 045 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 49 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano terzo con accessorio locale soffitta al piano sesto. Sito in via Belviglieri 15 barra, Verona. Prezzo base, 59.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 6 dicembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Laura Lorenzi, telefono 04 58 00 97 91, fax 04 58 00 97 91. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 500 del 2012, lotto uno. Abitazione disposta su due livelli fuori terra oltre a sottotetto con annessi non comunicanti adibiti a depositi e ripostigli e corte di pertinenza esclusiva. Sito in località Villabella 68 barra B, San Bonifaccio. Prezzo base, 113.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Ottaviani, telefono 045 59 46 42 fax 04 58 04 40 21. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 500 del 2012, lotto due. Abitazione con accessori disposta sui piani terra e primo, oltre a pertinenziale garage al piano terra, il tutto da ristrutturare. Sito in località Villabella 68, San Bonifaccio. Prezzo base, 34.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Ottaviani, telefono 045 59 46 42 fax 04 58 04 40 21. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 501 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano terzo con annessa soffitta al piano quinto. Sito in quartiere Santa Lucia in via Valeggio 46, Verona. Prezzo base, 45.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Sordi, telefono 04 58 00 13 78 fax 04 58 03 93 49. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 513 del 2014, lotto uno. Appartamento al piano terra con annessi locali accessori. Sito in località Cadeglioppi, via Lefasolare 1, Oppeano. Prezzo base, 77.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Bonanno, telefono 04 58 00 68 61 fax 04 58 00 39 75. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 513 del 2014, lotto due. Capannone artigianale. Sito in località Cadeglioppi, via Lefasolare 1, Oppeano. Prezzo base, 75.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Bonanno, telefono 04 58 00 68 61 fax 04 58 00 39 75. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 513 del 2014, lotto tre. Appartamento al piano primo. Sito in località Cadeglioppi, via Lefasolare 1, Oppeano. Prezzo base, 73.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Bonanno, telefono 04 58 00 68 61 fax 04 58 00 39 75. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 520 del 2013, lotto unico. Appartamento al piano primo. Garage al piano terra. Sito in frazione Maccacari, via Marconi 10, gazzo veronese. Prezzo base, 15.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono 0 45 862 13 44, fax 0 45 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 527 del 2014, lotto unico. Porzione di fabbricato terra cielo su due piani fuori terra con corte di pertinenza. Sito in via Boccare 17, casa Leone. Prezzo base, 23.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Tommaso Nicoli, telefono 0 45 59 16 47, fax 04 58 03 43 65. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 52 del 2015, lotto unico. Fabbricato terra, cielo, da ristrutturare, disposto su due piani fuori terra con corte di pertinenza. Piccolo fabbricato ad un piano fuori terra ad uso garage, ripostiglio in separato corpo di fabbrica. Sito in località Paganina, via Peschiere 5, Legnago. Prezzo base, 24.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 532 del 2010, lotto 4 barra C. Piena proprietà della quota pari ad un terzo, un terzo, dell'immobile ad uso deposito attrezzi agricoli con concimaie. Piena proprietà della quota pari ad un sesto, un sesto, dell'immobile ad uso stalla contettoia, uffici, depositi e silosa platea. Sito in via Spinetta, Oppeano. Prezzo base, 82 mila euro. Quota, piena proprietà della quota pari ad un terzo, piena proprietà della quota pari ad un sesto. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, studio notaio Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Vincenzo Bonanno, telefono 04 58 00 68 61 fax 04 58 00 39 75 Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 536 del 2014, lotto 1. Quota di un mezzo di piena proprietà di abitazione in casa singola Quota di un mezzo di piena proprietà di corte di pertinenza esclusiva Quota di un mezzo di piena proprietà di portico e tre locali deposito in separato adiacente edificio allo Stato Grezzo, e terzo edificio, allo Stato Grezzo, adibito a magazzino. Sito in contrada Pastoria, Vigasio. Prezzo base, 34 mila euro. Quota, quota di un mezzo di piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Ruberto, telefono 045 590 800 fax 045 803 16 46. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 536 del 2014, lotto 2. Quota di un mezzo di piena proprietà di porzione di terreno agricolo di forma irregolare, con sviluppo principale in direzione est, ovest, con accesso da strada de morta. Sito in nei pressi di contrada Pastoria, Vigasio. Prezzo base, 4 mila 500 euro. Quota, quota di un mezzo di piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Ruberto, telefono 045 590 800 fax 045 803 16 46. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 556 del 2014, lotto unico. Appartamento con corte e portico al piano terra e con annessi locali accessori al piano seminterrato. Sito in via dietro Castello 81 1, Sanguinetto. Prezzo base, 28 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono 045 862 13 44, fax 045 820 45 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 569 del 2013, lotto uno. Appartamento al grezzo, disposto ai piani terra, primo e sottotetto non praticabile. Sito in via Dante Alighieri 7, Roveredo di Gua. Prezzo base, 43 mila e 200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Cristina Caloi, telefono 04 58 94 83 75, fax 04 54 85 12 59. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 569 del 2014, lotto unico. Porzione di fabbricato terra, cielo, da ristrutturare, costituito da abitazione con annessi terrazza, cantina e soffitta. Posto autocoperto con deposito fienile. Sito in frazione di Burugno Ligo, via Santo Stefano 18 barra C, Monteforte d'Alpone. Prezzo base, 21 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 56 del 2015, lotto unico. Unità abitativa posta al primo piano in palazzina di poche unità con locale cantina di pertinenza posto al piano interrato. Unità abitativa posta al primo piano in palazzina di poche unità con locale cantina di pertinenza posto al piano interrato. Sito in via Romagna 6, Legnago. Prezzo base, 46 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Roberto Padovani, telefono, 0458, 03, 10, 77, fax, 0458, 03, 97, 66. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 578 del 2015, lotto unico. Appartamento al piano rialzato con annessa cantina al piano seminterrato. Sito in via Tamaro 8, Verona. Prezzo base, 116 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Dino Sartori, telefono, 045, 57, 68, 18, fax, 045, 810, 63, 76. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 583 del 2014, lotto unico. Abitazione con accessori. Quota di un terzo di soffitta. Sito in piazza Don Umberto della Valle 5, Simmella. Prezzo base, 25 mila euro. Quota, piena proprietà. Quota di un terzo. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandra Zaninotto, telefono, 04, 56, 15, 15, 40, fax, 04, 56, 17, 07, 48. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 587 del 2014, lotto due. Appartamento al primo piano con due balconi e sottotetto al piano secondo. Due box auto cantina. Sito in via Giovanni XXIII, 57, isola Rizza. Prezzo base, 86 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89 fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 587 del 2014, lotto tre. Appartamento con tre balconi posto al piano primo con sottotetto al piano secondo. Box auto e box auto cantina. Sito in via Giovanni XXIII, 57, isola Rizza. Prezzo base, 86 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89 fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 587 del 2014, lotto 4. Appartamento con tre balconi posto al piano primo con sottotetto al piano secondo. Box auto e box auto cantina. Sito in via Giovanni XXIII, 57, isola Rizza. Prezzo base, 86 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89 fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 587 del 2014, lotto 5. Appartamento con due balconi posto al piano primo con sottotetto al piano secondo. Box auto cantina. Sito in via Giovanni XXIII, 57, isola Rizza. Prezzo base, 81 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89 fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 588 del 2014, lotto unico. Terreni, risultanti dalla documentazione in atti con destinazione agricola. Sito in Legnago, Legnago. Prezzo base, 525 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Marzia Vinco da Sesso, telefono, 045, 59, 72, 82 fax, 045, 801, 07, 55. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 591 del 2013, lotto unico. Abitazione su due piani fuori terra con relativa corte di pertinenza. Sito in via Bragadina 87, Legnago. Prezzo base, 16.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Valeria Spada, telefono, 045, 59, 05, 48, 045.8 milioni 45 mila 962, fax, 045, 59, 22, 28. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 592 del 2008, lotto B2. Immobile uso abitazione al piano primo con accesso diretto dal piano terra, con annessi legnaia al piano primo collegata all'immobile da terrazza di proprietà, e due vani ad uso soffitta al secondo piano, di complessivi 5 vani catastali. Sito in località San Vittore via Molini 4, Colognola e Colli. Prezzo base, 36 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, in Verona, VR, presso lo studio notarile Maria Maddalena Boninconti, in vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Caltroni, telefono, 045, 800, 04, 33, fax, 045, 59, 08, 14. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 594 del 2014, lotto 1. Porzione di casa in linea su tre piani fuori terra. Piano interrato con autorimessa in separato corpo di fabbrica. Terreni di pertinenza esclusiva. Sito in località Bovo, via Lago Maggiore 31, Buttapietra. Prezzo base, 410 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandro Pasquini, telefono, 045, 800, 22, 39, fax, 045, 800, 26, 05. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 594 del 2014, lotto 2. Fabbricato ad uso magazzino, deposito in stato di abbandono ampio piazzale e terreno di pertinenza esclusiva. Sito in località Bovo, via Lago Maggiore, Buttapietra. Prezzo base, 219 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandro Pasquini, telefono, 045, 800, 22, 39, fax, 045, 800, 26, 05. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 594 del 2014, lotto 3. Terreno con stalla per allevamento equino e piscina con relativi accessori, in stato di semiabbandono. Sito in località Bovo, via Lago Maggiore, Buttapietra. Prezzo base, 274 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandro Pasquini, telefono, 045, 800, 22, 39, fax, 045, 800, 26, 05. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 596 del 2015, lotto unico. Villa su tre piani fuori terra con pertinenziale giardino e piscina al piano terra. Sito in via Vallesana 18, la Zise. Prezzo base, 510 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 18 gennaio 2017 alle ore 15.45. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Federica Micheli, telefono, 045, 803, 56, 55. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 598 del 2015, lotto unico. Appartamento al piano secondo con annessa cantina. Autorimessa sita al piano terra. Sito in via Pasubio 3, Montecchia di Crosara. Prezzo base, 90 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 gennaio 2017 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona i VG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 603 del 2014, lotto unico. Appartamento al grezzo posto al piano primo. Deposito. Autorimessa e posto auto coperto al piano seminterrato. Sito in frazione rivalta, via Don Cesare Scala 25, Brentino Belluno. Prezzo base, 108 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Ruberto, telefono, 045, 590, 800 fax, 045, 803, 16, 46. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 604 del 2015, lotto unico. Magazino e cantina al piano seminterrato. Sito in via Betlem 19, Sona. Prezzo base, 40 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 25 gennaio 2017 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 612 del 2015, lotto uno. Abitazione di tipo a schiera dislocata sui piani seminterrato, rialzato e primo. Autorimessa al piano interrato. Sito in via in Audi 9, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 224 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89, fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 612 del 2015, lotto due. Abitazione di tipo a schiera dislocata sui piani seminterrato, rialzato e primo. Autorimessa al piano seminterrato. Sito in via in Audi 9, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 207 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89, fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 612 del 2015, lotto tre. Abitazione di tipo a schiera al piano primo con entrata al piano terra ad uso esclusivo. Autorimessa al piano seminterrato. Sito in via in Audi 9, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 130 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89, fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 612 del 2015, lotto quattro. Abitazione di tipo a schiera al piano terra con accessori cantina al piano seminterrato. Posto autocoperto e tettoia al piano seminterrato. Sito in via in Audi 9, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 120 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Silvia Fiorio, telefono, 045, 611, 20, 89, fax, 045, 605, 08, 10. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 622 del 2015, lotto unico. Appartamento con annessa cantina al piano interrato e cortile esterno adibito a giardino. Sito in via Spallanzani 4, Verona. Prezzo base, 59 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 dicembre 2016 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giulia Avoglio, telefono, 045, 803, 56, 55, fax, 045, 800, 93, 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 625 del 2015, lotto unico. Lotto di terreno. Sito in Legnago, Legnago. Prezzo base, 65 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 1 dicembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Patrizia Orani, telefono, 045, 800, 46, 70, fax, 045, 801, 15, 15. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 627 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano secondo. Autorimessa al piano terra. Sito in Frazione Bonferraro, via Vittorio Bertazzoni 11, surga. Prezzo base, 62 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Michele Sartor, telefono, 045, 59, 44, 41, fax, 04, 58, 00, 49, 37. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 62 del 2015, lotto uno. Garage sito al secondo piano interrato. Sito in Quartiere Borgo Roma, via Olifante 3, Verona. Prezzo base, 8 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Cristian Belliardo, telefono, 045, 801, 12, 76, fax, 045, 804, 75, 43. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 62 del 2015, lotto due. Garage sito al secondo piano interrato. Sito in Quartiere Borgo Roma, via Olifante 3, Verona. Prezzo base, 8 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Cristian Belliardo, telefono, 045, 801, 12, 76, fax, 045, 804, 75, 43. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 638 del 2015, lotto unico. Hotel in costruzione su 7 piani fuoriterra e 2 piani interrati, con parcheggio al primo piano interrato di numero 72 posti auto. Sito in Viale Luciano dal Cero 1, Verona. Prezzo base, 14 milioni euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Marco Moretti degli Addimari, telefax, 045, 834, 19, 84. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 640 del 2013, lotto e. Villa ad uso residenziale dislocata sui piani terra, primo e secondo con accessori due depositi al piano terra e pertinenziale area esterna. Garage al piano terra. Sito in piazza quarto 6 novembre, ronco all'Adige. Prezzo base, 650 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Matteo Cavazzini, telefono, 04, 58, 03, 56, 55, fax, 04, 58, 00, 93, 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 640 del 2013, lotto e. Appartamento al piano terra. Autorimessa al piano terra. Sito in via Canton 11, ronco all'Adige. Prezzo base, 100 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Matteo Cavazzini, telefono, 04, 58, 03, 56, 55, fax, 04, 58, 00, 93, 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 642 del 2014, lotto unico. Abitazione al piano primo di complessivi 4,5, 4,5, vani catastali. Vano ad uso garage al piano primo scantinato. Sito in frazione Val di Porro, località Villaggio al Sole 12, Bosco Chiesa Nuova. Prezzo base, 66 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, studio notaio Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuseppe Ruotolo, telefono, 045, 800, 34, 95, fax, 045, 801, 14, 75. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 649 del 2014, lotto unico. Fabbricato ad uso abitazione al piano terra, con onnesso ripostiglio, legnaia in corpo di fabbrica separato di due piani fuori terra. Autorimessa e corte. Sito in via Solferino 6, legnago. Prezzo base, 36 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Gloria Zanca, telefono, 045, 800, 42, 74. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 654 del 2013, lotto unico. Compendio immobiliare composto da abitazione, con corte pertinenziale, deposito magazzino, portico, autorimessa e terreno risultanti dalla documentazione in atti con destinazione agricola. Sito in località Molino Saletti, Sant'Anna d'Alfa Edo. Prezzo base, 41 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Venceslao Buffatti, telefono, 045, 59, 28, 66, 876, 60, 00, fax, 045, 876, 60, 03. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 684 del 2015, lotto unico. Abitazione con corte e cantina. Autorimessa. Sito in località Cominelli 34, Valeggio sul Mincio. Prezzo base, 119 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 6 dicembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuliano Maffi, telefono, 045, 803, 66, 67. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 737 del 2014, lotto unico. Appartamento con area urbana di pertinenza. Sito in via Roma 33, Sanguinetto. Prezzo base, 36 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Marco Policante, telefono, 04, 58, 00, 13, 78, fax, 04, 58, 03, 93, 49. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 757 del 2012, lotto unico. Immobile con corte di pertinenza composto di abitazione su due piani fuori terra, terra e primo, con annessi cantina e ripostiglio in corpo staccato. Garage. Sito in via Sabbionara, Isola della Scala. Prezzo base, 25 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, studio notaio Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Barbara Draghi, telefono, 04, 42, 60, 02, 00, fax, 04, 22, 60, 03, 00. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 774 del 2014, lotto unico. Compendio immobiliare con terreno di pertinenza composto da due abitazioni, ciascuna disposta su due piani fuori terra, terra e primo. Deposito su due piani fuori terra, terra e primo, con ripostiglio e tettoia al piano terra. Vano ad uso garage al piano terra. Sito in località Bosco, via Botteghe 6, Cevio. Prezzo base, 71 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, studio notaio Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 775 del 2014, lotto unico. Appartamento. Autorimessa. Sito in via Buffatti 3, San Pietro in Cariano. Prezzo base, 85 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Daniele Reversi, telefono, 045, 800, 28, 49, fax, 045, 800, 59, 94. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 785 del 2013, lotto unico. Abitazione su tre piani fuori terra. Autorimessa al piano terra adibita a taverna, doppia autorimessa in separato fabbricato, e giardino esclusivo. Sito in contrada Cotti, via Cotti 10, Badia Calavena. Prezzo base, 50 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, presso la sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Aldo Corcioni, telefono, 045, 835, 25, 11, fax, 045, 834, 13, 40. Tribunale di Verona, causa civile 7.965 del 2015, lotto uno. Unità immobiliaria d'uso abitazione ai piani terra e primo, oltre al piano primo scantinato. Quota di un mezzo, un mezzo, degli appezzamenti di terreno, adiacenti al suddetto fabbricato. Sito in via Colonnello Fincato 79 barra E, Verona. Prezzo base, 416 mila euro. Quota, piena proprietà, quota di un mezzo. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, studio notaio Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Patrizia Schifano, telefono, 04, 58, 00, 05, 62, fax, 04, 58, 00, 08, 83. Tribunale di Verona, causa civile 7965 del 2015, lotto 2. Unità immobiliare ad uso abitazione ai piani primo e secondo. Vano ad uso garage al piano terra in corpo staccato. Sito in via Colonnello Giovanni Fincato 276, Verona. Prezzo base, 180 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, studio notaio Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Patrizia Schifano, telefono, 04, 58, 00, 05, 62, fax, 04, 58, 00, 08, 83. Tribunale di Verona, causa civile 7965 del 2015, lotto 3. Terreno edificabile di complessivi metri quadri 4584, 4584. Sito in via Colonnello Giovanni Fincato, Verona. Prezzo base, 1 milione 380 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, studio notaio Maria Maddalena Buoninconti in Verona Vicolo Ghiaia numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Patrizia Schifano, telefono, 04, 58, 00, 05, 62, fax, 04, 58, 00, 08, 83. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 817 del 2012, lotto unico, lotti 1 e 2 di Perizia. Unità abitativa su due piani fuori terra con legnaia, locale ripostiglio, oltre a baracca abusiva insistente su corte di pertinenza. Autorimessa in corpo staccato. Appezzamento di terreno agricolo. Sito in via Minello 31, Rover Chiara. Prezzo base, 16.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Francesco Mafficini, telefono, 045, 800, 22, 26, fax, 04, 58, 00, 94, 95. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 818 del 2013, lotto 3. Fabbricato collabente e fatiscente su due piani fuori terra con annessi un corpo di fabbrica separato ad uso ripostiglio con tettoia, ed aria esterna esclusiva. Sito in località Tarmassia, via Vallona Scantinato numero C, Isola della Scala. Prezzo base, 30.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Tommaso Nicoli, telefono, 045, 59, 16, 47, fax, 04, 58, 03, 43, 65. T Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 826 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano terra con annesso giardino esclusivo. Autorimessa. Sito Infrazione Michellorie, via Michellorie 45, Albaredo Dadige. Prezzo base, 128.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15.30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Nicola Caltroni, telefono, 045, 800, 04, 33, fax, 045, 59, 08, 14. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 850 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano secondo con annessa cantina al piano scantinato e corte di pertinenza esclusiva al piano terra. Sito Infrazione Porto, via Puccini 6, Legnago. Prezzo base, 38.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 858 del 2013, lotto unico. Abitazione disposta sui piani interrato, terra e primo e dotata di corte esclusiva. Laboratorio con ingresso carraio, deposito, centrale termica, vano montacarichi, disimpegno, archivio, 4 uffici e 2 bagni al piano terra e con vano scale, 2 depositi ed un magazzino al piano primo. Terreno di insistenza e pertinenza del fabbricato e tettoia. Sito in via Sanzeno 71, Cerea. Prezzo base, 130.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello Zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 85 del 2015, lotto unico. Negozio al piano terra fronte strada, composto di spazio di vendita, locale di lavorazione, cella frigo, retronegozio, ripostiglio e servizio, con portico ed annessa corte esclusiva. Sito in via Casella 46, Nogara. Prezzo base, 60.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 novembre 2016 alle ore 14. Luogo della vendita, presso la Sala Aste in Verona, Piazzetta San Pietro in Carnario numero 3. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Augusto De Beni, telefono, 045, 800, 94, 50, fax, 045, 801, 12, 42. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 876 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano secondo. Sito in via Alberoni 9, Caldiero. Prezzo base, 35.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Giuliano Maffi, telefono, 045, 803, 66, 67. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 880 del 2014, lotto unico. Appartamento al piano secondo costituito da ingresso, cucina con angolo cottura, soggiorno, tre camere, bagno, disimpegno e ripostiglio, oltre ad annessa cantina al piano interrato. Sito in via Grezzano 35 barra A, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 38.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15.30. Luogo della vendita, aula della corte d'assise del Tribunale di Verona, in corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, telefono, 045, 862, 13, 44, fax, 045, 820, 45, 82. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 904 del 2014, lotto unico. Quota di un terzo, un terzo, di piena proprietà di porzione di bifamiliare su tre livelli con accessori e corte esclusiva al piano terra. Quota di un terzo, un terzo, di piena proprietà di garage al piano interrato. Sito in via del Fante 22, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 96.000 euro. Quota, quota di un terzo di piena proprietà. Vendita senza incanto. 23 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Federica Micheli, telefono, 04, 58, 03, 56, 55, fax, 04, 58, 00, 93, 89. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 908 del 2013, lotto 3. Appartamento al piano terra. Sito in via Francia 12, Villa Franca di Verona. Prezzo base, 32.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 16 novembre 2016 alle ore 15. Luogo della vendita, aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona, in Corte Giorgio Zanconati numero 1, con ingresso da via dello zappatore. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato Alessandro Pasquini, telefono, 045, 800, 22, 39, fax, 045, 800, 26, 05. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS